Ciao a tutti! Oggi prepariamo i savoiardi. Vediamo gli ingredienti. Montate gli albumi con lo zucchero semolato. Sbattete i tuorli con il miele. Versate gli albumi montati in un recipiente più grande e unite i tuorli a filo e poco alla volta, mescolando delicatamente. Unite poco alla volta la farina setacciata con la fecola. Mescolate e mettete il composto in una sacca da pasticceria. Formate i bastoncini su tre teglie rivestite con carta forno. Spolverizzate la superficie dei biscotti con lo zucchero a velo. Cuocete a 190 gradi per circa 10 minuti. I savoiardi sono pronti! Un saluto da Francesca Romana Colletti.